Ciao a tutti ragazzi, è il vostro Paolo Spal 0-7 Juventus next again Spal 0-1 Che botta di culo detta proprio come va detta Spal che, come verrete con me, trova una vittoria che sembrava a un certo punto della gara insperata e che viene, anche abbastanza fortunosamente, con il gol di Bertini al 91esimo che riesce a mettere in porta probabilmente l'unico tiro che mi ricordi pericoloso nello specchio della porta della Spal insieme alla semi rovesciata di Arena nel primo tempo complice anche la deviazione del difensore che mette fuori causa un comunque incerto d'affara con la Spal che dunque trova il vantaggio proprio sulla Sirena Converrete con me che probabilmente da questa prestazione si salvano solamente i tre punti nel senso che è stata comunque una Spal ancora molto incerta, molto lenta nella manovra un attacco assolutamente, fino a quel momento, abbastanza sterile Spal che comunque secondo me ha il merito quantomeno di aver trovato un miglioramento nella fase difensiva perché sono venute almeno alcune disattenzioni che ci sono costate il gol contro il Perugia è anche vero che l'attacco della Juventus non è probabilmente paragonabile a quello del Perugia ma è comunque un attacco che è riuscito a siglare nell'ultima partita tre gol quindi probabilmente qualcosa vorrà dire manca ancora tanto, manca ancora molto alla Spal per trovare un'identità di gioco secondo me è pur vero che abbiamo dovuto fare a meno da metà primo tempo in poi di Carraro che si è infortunato e è dovuto entrare in questo caso il match winner Bertini che non è un regista, quindi alta difficoltà in fase di impostazione non abbiamo un'alternativa però in fase di impostazione nel senso che non c'è nessuno che in mancanza di Carraro o di una prestazione scadente, tipo la volta scorsa di Carraro prenda il suo posto nel ruolo di regia non lo fa maestro, non lo fa paravicini a centrocampo siamo corti ragazzi sia come qualità che come numero di persone con l'Odel non può fare il resista perché è un centrocampista prevalentemente di rottura e quindi viene meno il ruolo di impostazione bene il resto della difesa abbastanza bene Arena bene Bruscazin per quanto riguarda la fase di copertura anche Tripaldelli non ha sfigurato dietro davanti, lasciamo perdere, meglio che non commento mentre per l'attacco già siamo partiti palesemente in turnover e poi dopo abbiamo integrato mettendo a un certo punto gli attaccanti un po' più titolari un po' tardi, secondo me infatti non è una mossa che ha influito molto in arco della partita ci ha pensato il tiro di Bertini a mettere a posto le cose come dicevo c'è ancora tantissimo da lavorare veramente tanto la condizione atletica ancora non c'è siamo ancora indietro e lo sappiamo che con le squadre di Carraro arriverà dopo manca ancora tanto e anche pur vero che in una partita di questo tenore qua con questa intensità e con questa prestazione far venire tre punti seppur in maniera fortunosa è oro colato nel senso che è importantissimo avere anche da prestazioni così comunque il massimo del bottino non è molto però insomma per il momento ci dobbiamo accontentare e da qui in poi secondo me si può solo migliorare perché secondo me viste le ultime due prestazioni c'è solo da migliorare non c'è molto tempo perché sabato arriva già la lucchese e anche per questo se andate alla fine del video scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e noi ragazzi ci vediamo come al solito al prossimo video è sempre Forza Spau forza Spau Forza Spau